Buongiorno giovani, sono Vilma Longhi, sono psicologa e docente Scoop, molti di voi già mi conoscono. Oggi vi porto il mio saluto parlando di emozioni e di relazioni, parliamo di un'emozione primaria, cioè nasce con noi questa emozione, come la tristezza, la gioia e la rabbia e della paura. In un momento così surreale e di incertezze è normalissimo provare questa emozione e dobbiamo vederla come una nemica invalidante, ma anche come una grossa alleata. Per esempio in questo momento avere paura significa rimanere a casa, perché la paura ci fa sentire e percepire correttamente il rischio. Quindi decidiamo di fare un'azione responsabile per noi e anche per gli altri, rimanendo a casa. Un'azione protettiva, però la paura può degenerare in ansia o in attacchi di panico. Allora in quel caso ragazzi voi non siete da soli, ci sono i servizi, l'azienda sanitaria, ci sono gli psicologi dell'emergenza, per esempio gli psicologi per i popoli, di cui anch'io faccio parte, volontari e esperti in emergenza. Che cosa si può fare in questo momento di torpore, se vogliamo, ma anche di immobilità? Io per esempio ragazzi non voglio farmi vincere dalla paura e sto confezionando obiettivi per il futuro. Il futuro me lo immagino luminoso, vorrei che anche voi lo faceste. E per esempio possiamo pensare a come vogliamo essere, a cosa vorremmo fare, a tutti quegli atteggiamenti che non hanno dato dei buoni frutti e che vogliamo in qualche modo migliorare. Per esempio se viviamo in casa con i genitori potremmo anche chiedere di raccontare dei pezzi di vita, delle cose che non conosciamo. Cioè potrebbe essere un momento per approfondire delle relazioni anche importanti, che non abbiamo mai approfondito. E abbandoniamo la paura di esporci o di essere rifiutati. Potremmo avere delle bellissime sorprese. Quindi decidiamo di approfittare di questo tempo ragazzi per caricarci, per pomparci, pompiamoci di passione e di curiosità verso le cose, quelle che non abbiamo avuto il tempo di vedere o quelle che siamo stati pigri e non abbiamo visto, però avremmo voluto farlo. Carichiamoci di passione e di curiosità per gli altri, aspettando che non sia soltanto il web a farci parlare con le persone, aspettando di poterle riabbracciare, riguardare negli occhi dal vivo. Ragazzi vi saluto, vi mando un bacione, ciao, un abbraccio a tutti, ciao!